Sono Claudio Feltrin, l'amministratore delegato dell'azienda Harper, un'azienda di famiglia. Io rappresento oltre che essere appunto l'amministratore delegato, ma anche la proprietà. Quindi noi siamo presenti nella proprietà come il mio papà, che è il presidente, mio fratello e io, che ho funzione di amministratore delegato. L'azienda nasce nel 1989 da una precedente esperienza di famiglia nel settore del commercio, dei tessuti, delle pelli e si è deciso di partire a fondare un'azienda di arredamento sulle sedute, sulle sedie in principal modo, specializzate nel cuoio. Poi, dopo una decina d'anni, abbiamo deciso di affrontare, cambiare settore, cambiare la tipologia di prodotto e fare affrontare il design. Quindi prodotti di design, sedute di design e questa è stata una scelta fatta nel 2000 ed è stata una scelta molto fortunata. Allora, la filosofia del design che seguiamo noi come Harper è una filosofia di design, riteniamo noi, molto allargata. Quindi il design non è semplicemente interpretato come una forma, quindi basato semplicemente sulle forme, ma è basato soprattutto sulle funzioni. Allora, siamo entrati in contatto con Stylecraft attraverso una fiera ed è stato un incontro molto fortunato. Questo è successo all'inizio del percorso di Harper, diciamo della nuova Harper del design del 2000 e questo ha fatto sì che noi potessimo affrontare con un partner che si è rivelato poi subito il partner ideale per sviluppare il mercato australiano che per noi è un mercato nel momento in cui abbiamo affrontato il design molto lontano, molto lontano geograficamente. Loro sono stati appunto il partner ideale e che ancora adesso abbiamo una collaborazione molto molto stretta per servire questo mercato. Ho un messaggio assolutamente di continuare nella linea con cui hanno sempre continuato e che hanno portato a fare il primo loro anniversario, il sessantesimo anniversario e sarà il primo di tanti altri anniversari e quindi penso lunga vita a Stylecraft e alla nostra collaborazione con Harper. Grazie a tutti.